questa è una marmotta che possiamo trovare sulle nostre alpi che appassionato di montagna ne avrà viste a decine e che quando arriva il freddo decide di usare una strategia molto singolare per sopravvivere va in letargo che è quello che vorremmo fare noi tutte le mattine da novembre a gennaio fondamentalità febbraio quando fuori piove a Milano c'è la nebbia dice no ma io preferirei restare qui perché fa così la marmotta la marmotta fa così perché il suo ecosistema cambia in inverno non c'è più quello di cui si nutre normalmente non solo lei lo fa lo fanno gli scoiattoli gli orsi pipistrelli anche animali ai tropici non è necessario che ci sia il freddo è necessario che ci sia una carenza di risorse alcuni lemuri ci vanno perché non c'è acqua in mandagascare in alcuni periodi della stagione secca e per sopravvivere quando non ci sono risorse cosa si fa si fa una sorta di austerity metabolica si consuma almeno possibile solo che noi mammiferi siamo un corpo un po strano perché noi consumiamo tanto io ho fatto proprio un bel pranzetto prima di venire qui a Milano e poi adesso ancora fame ma noi continuiamo a mangiare perché abbiamo una temperatura corporea elevata e ce l'abbiamo per un motivo questo ci consente di essere sempre pronti i muscoli sempre pronti a contrarsi il cervello sempre pronto a pensare non tutti lo usano per questo però molti si diciamo noi siamo ottimisti molti lo usano per pensare e quindi dobbiamo consumare per sopravvivere la marmotta si gioca questo jolly gli dice io adesso smetto di consumare così facendo ovviamente non fa niente resta in stand by come la televisione quando la spegniamo prima di uscire e dice sai cosa io l'inverno me lo faccio nella tana e poi ci vediamo in primavera e hanno iniziato adesso a fare questa cosa per cui l'evento critico dell'ibernazione è proprio quello che succede in quest'area grigia non spaventatevi un grafico vi ci guido io nella sua lettura questi sono giorni questa è la temperatura corporea della marmotta che normalmente a 37 gradi e qua quando entra in torpore scende a 10 gradi perché scende perché questo anche il consumo energetico della marmotta è improvvisamente crollato del 95 96 per cento e quindi lei può vivere fra virgolette vivere perché una vita a bassa intensità bassissima intensità per mesi senza doversi nutrire senza produrre scarti biologici senza dover bere senza fare assolutamente niente però non sta dormendo però il suo cervello sta facendo delle cose molto diverse il sonno consuma comunque energia per noi ed è uno stato che ha un diciamo un'evoluzione diversa questo è un ritorno quasi all'ancestralità all'essere una lucertola che durante la notte sera fredda e la mattina bisogna andare al sole per scaldarsi e è uno stato che fanno tanti animali vi dicevo il record man dell'ibernazione e lo scoiattolo artico che è l'unico mammifero che è in grado di scendere addirittura sotto zero come temperatura corporea può andare fino a meno meno 2 il plasma congela meno 2 6 quindi è lì per congelare ma l'orso lemuri animali molto antichi come il dannar per esempio riescono a fare questo particolare comportamento quindi è un aspetto ecologico diceva bene una curiosità spallanzani era già interessato a questa cosa nel diciassettesimo secolo perché dovrebbe interessare la scienza contemporanea perché in questo particolare stato ci sono numerosi vantaggi che noi potremmo sfruttare è una situazione in cui il nostro corpo funziona in un modo molto diverso è una nuova fisiologia possiamo dire quindi gli organi gli apparati che prima facevano delle cose adesso le fanno in modo diverso o ne fanno di diverse e questa diversità può essere sfruttata in primis per applicazioni mediche che vedremo ma si spera un giorno anche per applicazioni spaziali prima però di arrivare a questo chiediamoci qual era il tema della giornata cioè il tema della giornata è e se gli uomini andassero in letargo se noi domani potessimo effettivamente andare in letargo che mondo ci aspetteremo davanti a noi è un esercizio intellettuale ovviamente non sappiamo cosa succederà se questo dovesse succedere e ci sono tanti se ma se una tecnologia dovrebbe essere potrebbe essere molto costosa potrebbe essere difficile applicazione non necessariamente alla portata di tutti ma noi facciamo finta che tutte queste cose non ci siano immaginiamoci tutti capaci di andare a intorpore cosa succederebbe la nostra società allora beh c'è ci sono alcune conseguenze interessanti io ci ho pensato un po poi magari ce ne sono altre per esempio il nostro pianeta è diviso in due c'è una parte sud e una parte nord e dove è estate in un posto dove è estate e nell'altro inverno e allora vuol dire che andremo in ibernazione metà pianeta alla volta e cosa succede se quelli che sono svegli vengono da noi quando noi stiamo in letargo a mangiarci le zucchine che avevamo congelato per la primavera o il pollo e quindi dal punto di vista sociale sociologico potrebbe essere una situazione in cui si dia potrebbero scoppiare guerre che sono una cosa bella da dire ovviamente però dovremmo comunque mettere in piedi un sistema di pesi e bilanciamenti affinché chi è vulnerabile in quel momento perché l'animale in letargo è vulnerabile è difeso solo dal fatto che è molto nascosto non emette odori non emette niente come se fosse una pietra e quindi i predatori non lo trovano ma se i predatori sanno che c'è lo vanno a cercare quindi come è fatto l'essere umano questo aspetto andrebbe ponderato con cautela nella diffusione di questa di questa tecnologia e oppure potrebbe diventare una necessità immaginiamo città sempre più densamente abitati paesi il mondo sempre più densamente abitato magari troppo densamente abitato qualche autore non solo di fantascienza ha già esplorato questo scenario ma cosa potremmo pensare di vivere a turno una stagione per uno metà anno per uno un oppure chi di giorno e chi di notte e in questo modo magari riuscire anche ad espalmiare un po di risorse del pianeta anche questi sono scenari futuribili sono scenari forse che più che al pianeta si applicano in effetti a colonie spaziali dove magari la quantità di risorse potrebbe venire meno potrebbe dover essere contingentata ed ecco che allora io posso ridurre il mio consumo in questo modo cercando comunque di mantenere la mia vita e dovrei ovviamente pensare a chi non può andare in in ibernazione per esempio tutti gli animali usati in agricoltura le galline i maiali le mucche le pecole e quindi avrei bisogno di un'elevata automazione poi fra l'altro non solo per gli animali ma anche per i campi stessi non è che mi sveglio e il pianeta è un disastro e bisogna ripartire sempre da capo bisognerebbe mantenerlo quindi sarebbe necessaria un'elevata robotizzazione della produzione di energia anche la produzione di beni di tutti i servizi che non possono effettivamente stare fermi e quindi diciamo dobbiamo pensarla in questi termini anche se c'era una regista spagnola che aveva girato un cortometraggio sull'ibernazione lungometraggio sull'ibernazione che invece aveva una visione per cui il contadino si ibernerebbe con i suoi animali sarebbe una sorta di arca ecologica che vive nella campagna e sopravvive in questa utopia ogni artista poi alla sua alla sua visione giustamente cosa succederebbe invece all'individuo a questo punto al singolo ha un effetto sulla vita della singola persona probabilmente tanti e anche tristi potenzialmente per esempio potremmo essere costretti andare in ibernazione perché siamo poveri e magari non riusciamo a nutrirci sempre e allora in un mondo distopico in cui le risorse siano molto costose la popolazione sia sovrannumeraria e mancano effettivamente le risorse chi è in difficoltà potrebbe pensare ha perso il lavoro magari così di entrare in ibernazione per tempi migliori ed ecco che allora contrariamente a quello che di solito pensiamo nei film di fantascienza in cui è il ricco che si iberna per vivere di più qui sarebbe il ricco che vive sempre la ricchezza porterebbe la possibilità di vivere mentre la povertà richiederebbe la necessità di ibernarsi ed è un modo di vedere al contrario quello che può essere uno scenario fantascientifico ovviamente stiamo parlando oppure potremmo avere lo sviluppo di nuovi lavori perché perché una persona che è in ibernazione magari ha bisogno di avere i suoi interessi costantemente curati e se si iberna solo io e mia moglie no o i miei figli no e gli succede qualcosa chi può svegliarmi perché quando ho bisogno di un curatore sono ancora consapevole di me stesso sono ancora un essere umano godo ancora dei diritti della persona o no perché in quel momento io non sono più cosciente sono effettivamente quasi un pezzo di materia inorganica se vogliamo estremizzare e quindi cosa succede se prendo una multa che mi arriva tre mesi dopo come succede normalmente sono già in ibernazione non la pago poi mi arriva un conto da un milione a casa o se le mie finanze la borsa scende io sto perdendo soldi chi può svegliarmi quindi è possibile che avvocati commercialisti generino nuove nuove figure anche nuove magari contenziosi legali per per le loro per la loro felicità e oppure potrebbe essere un'occasione da sfruttare questa slide me l'ha ispirata un una persona che aveva assistito alla mia conferenza che mi ha detto professore senta io sono un un broker gioco in borsa sono gestisco un porto un portfolio di una banca d'affari ma io potrei ibernarmi quando il mercato scende svegliarmi quando il mercato sale magari un giorno le chiederemo un fee per questo una tassa e quindi magari potrebbe anche esserci chi pensa in questi termini allora mi arricchisco quando posso quando non posso entro in comodità in questi in questa idea si tratterebbe ovviamente di una tecnologia magari accessibile solo a certi strati della popolazione quindi magari molto costoso molto o molto difficile o magari anche rischiosa oppure ancora più controverso sono condannato per un crimine posso chiedere di passare la sentenza di trascorrere la sentenza ibernato vale vogliamo la sofferenza del condannato o ci interessa che non sia più presente nella società per quel periodo lì anche queste sono cose che ci fanno un po riflettere sul ruolo della pena della punizione ma su questo i filosofi del diritto i giuristi hanno scritto dei testi però è un interessante spunto di riflessione ecco va bene se se ho ucciso qualcuno e sto 30 anni in una capsula così e poi esco la società è a posto è contenta ho saldato il mio debito o no visto che non ero cosciente di quello spunto di riflessione e a questo punto possiamo chiederci se l'ibernazione sia effettivamente buona o cattiva è un filosofo di cambridge che si chiama il vostro ma ha scritto qualche qualche anno fa un interessante libro dove ha sentato l'articolo dove ha presentato un'ipotesi così interessante che si chiama l'ipotesi dei mondi vulnerabili cioè lui dice noi per adesso consideriamo la tecnologia sempre una cosa positiva e dice immaginiamo che la tecnologia siano una serie di biglia in un vaso che noi non vediamo però immaginiamo che siano tutte biglie bianche per bianco intendiamo una tecnologia che arricchisce l'essere umano per esempio il vetro il vetro è una tecnologia che di solito si sfrutta fin di bene è difficile pensare che la società collassi perché abbiamo inventato il vetro ma lui dice andando avanti però potremmo pescare anche delle biglie che tanto bianche non sono potremmo anche pescare delle biglie che sono nere grigie nere cosa vorrebbe dire sono tecnologie che potrebbero mettere a rischio la società stessa per il solo fatto di essere inventate lui fa l'esempio della bomba nucleare non perché questa sia e grigina diciamo ma dice se la bomba atomica fosse una tecnologia che ciascuno di noi potesse costruirsi in garage le easy nuke le chiama lui il mondo si sarebbe probabilmente già dato a una guerra atomica su larga scala perché il vicino ha parcheggiato davanti al mio violetto aspetta che gli punto una granata nucleare sulla casa e così mettiamo a posto i conti una volta per tutte e quindi dice fortunatamente costruire una testata nucleare è difficile richiede molti soldi e laboratori particolari competenze elevate quindi non succede ma se succedesse una tecnologia così e allora dobbiamo chiedersi se l'ibernazione possa essere qualcosa di nero o di bianco in questo caso può aiutarci come specie magari a diventare migliori o a peggiorare la mia idea è che l'ibernazione possa essere una una tecnologia che sbianca cioè che può rendere la nostra società più resiliente nel senso che se noi possiamo utilizzarla per sopravvivere fuori dal pianeta o per anche nel pianeta ma a condizioni più dure siamo più resistenti anche potenzialmente ad altre tecnologie nere ad altre biglie nere però questo ovviamente è solo la mia opinione e per cosa potremmo usarla quindi per esempio potrei davvero aspettare un trapianto di fegato situazione che non ha nessuna terapia al momento se non per l'appunto il trapianto overdose di paracetamolo tachiperina quella che tutti prendete uno dei farmaci più pericolosi è il farmaco che dà il maggior numero il più grande numero di case di overdose nel mondo e causa un'epatite incurabile bene occorre il trapianto ma magari non si trova nel tempo necessario però se io potessi prolungare la vita della mia persona non perché l'allungo perché blocco la malattia ma gli faccio vivere quelle due settimane che aveva invece che in due settimane in due mesi perché rallento il ritmo della sua vita rallento su orologio allora magari potrebbe trovarlo e potrebbe quindi vivere il resto della sua vita quindi sono tante applicazioni mediche che sono positive sono tantissime poi per il cancro alzheimer liposia neonatale la di protezione ovviamente anche la medicina delle catastrofi ma poi principalmente anche viaggi spaziali cosa per cui siete qua quindi esiste una ricerca di base molto ampia in questo settore in cui studiamo come funziona l'ibernazione come cosa innesca il risveglio ricerca più applicata cioè fare questo tipo di tecnologie per adesso in mammiferi più grandi e sfruttare l'adattamento del corpo a fini medici adesso solo come esempio vi posso spiegare e far vedere brevemente quello che sappiamo di come funziona e funziona a livello cerebrale grazie ad alcuni piccoli gruppi di neuroni che controllano il nostro metabolismo questo gruppo di neuroni è controllato da un network piuttosto complesso che piano piano stiamo cercando di diciamo di scoprire e noi siamo stati primi e ormai una decina di anni fa a mostrare che interrompendo la funzione di questo network in effetti un animale che non va in ibernazione ci entra o perlomeno va in una condizione molto molto simile a quella che è l'ibernazione e questo solo per farvi vedere com'è un animale in letalgo questi sono normali topi di laboratorio più è rosso più è caldo il nostro animale questa è la testa questo è l'occhio vedete quello di sotto è un animale di controllo si dice c'è un animale che è in un ambiente dove non ha interesse andare a intorpore quello sopra invece vorrà andarci e vedete che pian piano scompare e raggiunge quasi la temperatura ambientale che è in questo caso 15 gradi e ci è entrato in una condizione diciamo artificiale ora voi siete tutti però qui per lo spazio quindi due parole su quello che potrebbe succedere questi sono fotogrammi di film molto famosi potete mettere alla prova la vostra consapevolezza hollywoodiana per capire quali sono questi film famosissimi poi se mai ve lo dico io e perché servono questi perché per i film nei film l'ibernazione serve a viaggiare lontano ma è effettivamente così allora cosa potremmo farci con l'ibernazione allo spazio immaginiamo di dover andare dalla terra a marte ci sono dei problemi tre problemi principali sono tanti il cibo le psicosi che vengono agli astronauti e le radiazioni che sono il problema numero uno dell'esplorazione spaziale allora immaginiamo di essere nella nostra cabina telefonica scagliata nello spazio a massima velocità con un certo numero di persone quante sei qualcuno adesso dice quattro forse poi ritorniamo a sei vedremo e ci serve del cibo circa l'equivalente di due elefanti come peso due elefanti e mezzo per i nove mesi d'andata l'anno di ritorno un po di tempo su marzo diciamo due anni due anni e mezzo di missione allora spedire un chilo di qualunque cosa un chilo di piume un chilo di ferro se c'è una volta nello spazio costa sui 120 mila euro 140 mila euro quindi immaginate il costo anche perché poi serve un astronave più grande per contenere il cibo e quindi se questo è inizia essere un problema significativo poi c'è il problema delle psicosi persone che non riconoscono più l'equipaggio come amico e quindi diventano aggressivi se avete mai fatto una vacanza in barca a vela con i vostri amici avete sognato di accoltellarli durante la notte è un sentimento perfettamente umano non vergognatevi è normale normalmente resistiamo a questo impulso ma se tempo e tempo dai e dai potremmo non resistere qualche anno fa un ricercatore in antartida ha accoltellato il suo collega nella base antartica dove erano solo loro due perché gli rivelava i finali dei libri gialli che lui stava leggendo quindi si possono si può diventare nervosetti in questa situazione e poi c'è il problema delle radiazioni che sono radiazioni cosmiche a cui normalmente noi non siamo esposti perché la terra ci protegge col campo magnetico e nello spazio ci sono sono molto dannose e non sappiamo come risolverlo questo problema mentre gli altri due magari si può tentare questo non c'è e allora se si potesse andare in ibernazione ecco che il cibo non servirebbe più ecco che le psicosi non ci sarebbero più perché saremmo tutti incoscienti ma il grande bonus è che l'ibernazione conferisce anche un'elevata protezione dal danno radiologico quindi le cellule esposte alle radiazioni vanno solo in ibernazione sono più protette come il resto dell'organismo e questo è un tema molto attivo molto caldo di ricerca in questo momento questo vale per andare su marte ma vale anche per andare più lontano questa è europa possibile meta di un futuro europa non dista due anni ci vogliono magari 30 40 anni per arrivarci immaginate che in una situazione così tutti questi aspetti vengono potenziati in maniera molto significativa come sarà un viaggio in ibernazione immaginato degli scenari così in cui gli astronauti sono nelle loro nicchie pian piano e attendono quindi che qualcuno li vada a svegliare e giusto per dire qual è il nostro ruolo questo è il tropical team hibernation dell'esa io lo coordino sono stato un membro per molti anni adesso sono diventato un nuovo coordinatore ovviamente spero che il nostro lavoro quindi possa consentire a tutti noi o qualcuno di noi che magari adesso è fra il pubblico un giorno di vedere questo cielo che ci ha fatto compagnia nella nostra esposizione perché questo puntino che vedete qua di questo cielo non è una stella ma il nostro pianeta dove si vede anche la luna facendo molta attenzione quindi magari qualcuno di voi un giorno lo vedrà grazie ancora per l'attenzione grazie 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 grazie